Scusa, Max, ma perché dovremmo chiamare Costa maestro? Perché il Costa ha scoperto uno dei misteri più importanti della vita, la morte. Pietro, tu non capisci? Il Costa è l'elettro, l'illuminato, è colui che sarà, che è sempre stato e che è. Ma chi Costa? Ma se non è neanche laureato il Costa, cosa dici? E scriveranno libri su te, e canzoni, e sarà il più ideologo distante. Più delle rock star adesso. Più di Buddha. Più delle star di Hollywood magari. Più del Papa. Più di Annie Sesinatra. Più di Sei Papa. Più dei calciatori. Sono illuminata. Sono ricco. Se tra due giorni tu non te ne vai di casa, chiamo i carabinieri che ti sbattono fuori, chiaro? Becca per favore, puoi uscire dall'acquario? Sono tutti impazziti. Per di me, Pietro. Ha detto qualcosa, signor Pietro? Non ho detto niente, signora Cruschon. Kruger! Signora Kruger! Signor Pietro, io mi sono presa la briga di imparare bene il suo nome, anche se la cosa non intuisce minimamente sulla mia esistenza. quindi faccia fare uno sforzo in più ai suoi pochi neuroni e impari bene il mio nome perché in fondo sono sempre la vostra amata e rispettata padrona di casa. Ma, Max, ragazzi, ti ho già salutato, sì, ti ho già detto ciao, sì, Max, è girata un po' la ruota, ma è passeggera, me lo sento, me lo sento. E quanto ha perso questa volta? Tanto, tutto, per vedere le carte devo giocarmi la macchina. Ma se lei non c'era la macchina, dai! Max, vuoi prestarmi le chiavi della macchina, per favore? Forse, Anna, ragazzi, è il caso che ricominciamo dall'inizio, cioè... No, 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 se nesse andmmeno da questa storia da bar non c'era più una. Nabbà? Ma chi è Nabbà? NABHAAAAA! Nabbà è un pastone! Grazie a tutti.